Cosa succede se contrago il virus tra la prima e la seconda dose? La vaccinazione stessa non può trasmettere la malattia e non può dare un risultato positivo a uno dei test, sia quello molecolare che il test antigenico, non può diventare positivo dalla vaccinazione. Però ovviamente una dose di vaccino non copre ancora per la patologia, soprattutto non nei primi giorni. Per cui è possibile infettarsi poco prima o poco dopo della vaccinazione e quindi sviluppare anche la malattia o comunque avere un tampone positivo che però, attenzione, non è dalla vaccinazione ma è dal virus che ho incontrato in un momento dove ero ancora suscettibile per l'infezione. Ecco.